Siamo qui con Emiliano Storani alla vigilia della trasferta di Grosseto dell'Ascoli. Allora Emiliano, speri che sia passato il momento tuo difficile dopo l'infortunio. Adesso è arrivata anche questa convocazione in under 20 di categoria. Sì, spero che sia passato. Il mio momento è stato un piccolo infortunio, quindi niente di che. Adesso speriamo di portare a casa questo risultato a Grosseto e poi a livello personale martedì spero di far bene e continuare questa avventura con la nazionale. I tuoi compagni hanno detto vincere aiuta a vincere. Sì, quello sicuramente. Vincere aiuta a vincere. Infatti sicuramente mercoledì ci ha dato una grandissima mano e a livello proprio di squadra c'è il suo contributo per proseguire al meglio la trasferta di Grosseto. E lo schema tattico, il 4-3-3 di mister Pergolizzi, per te può servire anche per il tuo ruolo di esterno, che da sinistra magari ti accentri e fai partire il tuo tiro. Quello che abbiamo visto anche nelle scorse settimane in allenamento prima dell'infortunio è notevole. Sì, il 4-3 sicuramente è il ruolo che mi si addice più di tutti. Ho sempre fatto il 4-3, quindi il mister sotto questo punto di vista, anzi potremmo fare pure il 4-4-2 con i giocatori che abbiamo, quindi non è una questione di modulo. Comunque ci stiamo impegnando tutti quanti e speriamo di far bene tutti. Un primo bilancio, ultima domanda, un primo bilancio di questi primi mesi in bianco-nero fra spogliatoio e campo, soprattutto spogliatoio per quanto riguarda magari i giocatori più maturi come Pestrin e Bianchi? No, il gruppo come ho detto prima è splendido, quindi siamo tutti bravi ragazzi e anche comunque noi più giovani ci stiamo adattando magari ai più vecchi, quindi a livello di gruppo comunque non c'è da dire nulla. Adesso dobbiamo lavorare, metterci sotto per far venire questi risultati.